Ben ritrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo per andare a presentare quello che sarà il sabato 25 luglio, un sabato ricco con un convegno di trotto con sei corse in palinzesto e ricco anche di eventi con Miss Italia che eleggerà la sua Miss Cotonella per una finale regionale. Calandoci nel convegno di trotto invece si attende la quarta prova, il premio Granata che è una prova riservata al campionato guidatori del Mediterraneo, si disputerà la seconda tappa e in scena andranno le nazioni d'Italia, Francia, Serbia, Russia e Malta. Ma andiamo con ordine, andiamo subito nel premio che aprirà appunto il convegno, il premio Bilbao, è una bella condizionata riservata a cavalli di 4 anni, dove il numero 2 Sherman Cub se fa percorso liscio potrebbe essere il facile vincitore. Valide prime alternative nel numero 6, Snapper Starlight, un soggetto davvero in forma e per la regolarità ci si può affidare a Stasi Cup. Noi ci siamo affidati alle indicazioni di Francesco Sirchia per quanto riguarda la segreteria trotto. Sentiamo. Il convegno di sabato 25 luglio si apre con una bella condizionata per cavalli di 4 anni, nella quale il dotato mafaloso Sherman Cub se dovesse fare percorso liscio dovrebbe poter andare a segno. Le minacce per l'allievo di La Rosa sembrano il 6 di Snapper Starlight, un cavallo che parte forte. A Palermo nelle ultime uscite è stato visto in progresso e poi la veloce Stasi Cup, cavallina molto irregolare che già sulla pista nel convegno di apertura è andata a segno. Tra gli altri da segnalare anche Serizio GV, un cavallo in crescita che se trovasse il suo assetto migliore potrebbe essere uno dei protagonisti. Il clou del convegno, cioè la prova con maggiore dotazione invece è affidato al premio Madrid, quindi seconda prova, si tratta di un invito per soggetti anziani. Sono in 5 al via ed è proprio il numero 5, l'Unitunza, ad avere i maggiori favori del pronostico, un soggetto che sicuramente ha militato in contesti più importanti, un soggetto esperto e vincitore già in questo tipo di schema e quindi sicuramente il cavallo da battere. Potrebbero dargli filo da torcere Rizmbi, un soggetto che sicuramente farà andatura, quindi il battistrada della corsa, un soggetto con una buona forma che però sicuramente potrebbe concorrere meglio per la migliore piazza con Patrick AS, quindi il numero 4 e il numero 2 dello schieramento potrebbero essere quelli a giocarsi la migliore piazza. Ancora una volta noi per le maggiore e più chiare indicazioni ci siamo affidati a Francesco Sirchia. Alla seconda corsa è posto il clou della serata, il premio Madrid, un invito per cavalli anziani. Non si discute la candidatura di Lunetunz, soggetto vincitore classico, lo ricordiamo tra le tante corse vinte del campionato europeo di Cesena, soggetto che in questo contesto è quasi sempre andato a segno e anche stavolta dovrebbe farlo. Per l'accoppiata penso che Rizmbi, che dovrebbe essere il cavallo che andrà probabilmente davanti, potrebbe essere il secondo. Dovrebbe essere per la migliore piazza con Patrick AS, soggetto che di recente ha mostrato una forma eccellente e che se dovesse respingere Rizmbi in avvio potrebbe soffiagli il posto d'onore. È il premio Valencia invece nella terza del convegno. Si tratta di una condizionata per cavalli di 4 anni e sono in 6 al via. Santiago Wise AS risulterebbe il favorito netto della prova, un soggetto che sta attraversando un ottimo periodo di forma, un gran partitore che potrebbe centrare il bersaglio. A seguire si cita una linea, quella tracciata da Solent su Fruente, una cavallina veloce che potrebbe giocarsela ancora una volta con Sogno d'Asolo, atteso al debutto ma che finisce alla fine proprio dietro il numero 2 dello schieramento. Quindi questa è una linea che potrebbe riproporsi. Per scendere nel dettaglio in questa terza prova, sentiamo cosa ci ha detto Francesco Sirchia. In questa terza corsa anche qui un cavallo sulla carta abbastanza netto in Santiago Wise AS. Il 4 anni di Natale Cintura, cavallo che parte forte, non penso che debba avere sovecchie difficoltà a scendere subito alla corda. Tra l'altro i numeri 5 e i numeri 6 fino ad adesso hanno dimostrato di potersi avviare bene sulla pista. Nel fronte della scelta delle accoppiate mi orienterei sulla veloce Solent su Fruente e sul Sogno d'Asolo molto atteso al debutto sulla pista ma che è calato negli ultimi metri facendosi battere proprio da solo in Tufrente. Quarta del palinzesto quindi premio Granata, valida per la seconda tappa del campionato guidatori del Mediterraneo. Sono in 5 le nazioni a concorrere Italia, Francia, Serbia, Russia e Malta e sono in 10 i soggetti di 5 anni ed oltre pronti dietro le ali dell'autostarter proprio in questa prova a invito. Gli occhi si puntano sul numero 6, Olson Lady, che se al meglio della condizione è sicuramente il soggetto più temibile. Ma sono tante le alternative, ad esempio si può benissimo citare Renzo Rosso Trebb che non dispiace affatto alla prima uscita su pista siracusana, Ribelle Ors che vanta una forma eccezionale. E per quanto riguarda ancora per la prima fila sicuramente No SG è un cavallo che merita molta citazione, un cavallo di qualità, un soggetto che potrebbe sicuramente fare la sua bella figura. Opinion leader, esperto ormai della pista siracusana, ha corso sempre bene qui in questo tracciato e quindi può sicuramente ripresentarsi sul podio. E poi seppur sta attraversando un periodo opaco, ma è un soggetto che è privatista qui sulla pista siracusana e parliamo di Locomotion OM, è un soggetto che se dovesse ritrovare la migliore condizione potrebbe essere ancora una volta temibile. Noi abbiamo chiesto a Francesco Sirche il suo parere e ci ha dato le sue indicazioni. Sentiamo. Alla quarta corsa è abbinato il premio Granata a prova valida per il campionato del Mediterraneo, seconda tappa, in cui si confrontano i driver dell'Italia, della Serbia, di Malta, della Russia e della Francia. Il favorito potrebbe essere Olson Ledi, cavallo che ritorna in Sicilia dopo una parentesi toscana in cui ha ottenuto dei buoni risultati, al contrario di quanto aveva fatto in precedenza a Palermo. Se il neollievo di Pippo Messineo sarà al migliore condizione potrebbe essere il favorito. Tra le alternative direi Renzo Rosso Trebbe guidato dal rappresentante italiano Matteo Di Meo che non ha corso male al debutto sulla pista, cavallo che sa costruire, dotato di buona punta e velocità e di una buona progressione. In prima fila, secondo me, vanno rimarcate le chance del numero 2 Nosteggi, un soggetto che sulla pista di Siracusa ogni anno si trasforma, ma ha ottenuto sempre delle ottime prestazioni e col vantaggio del numero 2 potrebbe essere uno dei protagonisti e avrà in cabina in regia il guidatore francese Jean-Paul Fasquel. Nel novero dei papabili inserirei anche il numero 9 di Ribelle Ors che sta attraversando un momento di forma, il numero 3 di Opinion Leader, altro cavallo che a Siracusa ha sempre fatto bene, e il nobile degaduto Locomotion Noem, soggetto che, ricordiamo, è il primatista del tracciato siracusano, ma che non riesce a venire fuori da un periodo opaco. Il premio Barcellona invece è di scena per la quinta del Palinzeste, una condizionata che impegna le femmine di tre anni, sono in sei al via. È probabile match tra il numero 3 Taitu R e il numero 4 Tennis F, soggetti in una buona forma, soggetti che potrebbero ancora essere protagonisti, questa è l'opinione anche di Francesco Sirchia. La quinta corsa, il premio Barcellona, si presenta come un match tra due cavalli, Tennis F e Taitu R. La partenza dovrebbe vedere andare davanti Tennis F e Taitu R e porsi nella sua scia, e credo che la retta d'arrivo sarà palpitante tra questi due soggetti. Diciamo che la scelta può essere davvero sottile, ma le ultime prestazioni di Taitu R spostano di poco l'ago della bilancia verso l'allieva di Tonino Pecoraro. Per la trio consiglierai il numero 2 di Tempra Breed, soggetto in progresso che sta avvenendo avanti corsa dopo corsa. E sono in dieci a chiudere il convegno con il premio Siviglia, una condizionata abbinata alla gioco Ipica Nazionale. Sono cavalli di tre anni, tra i quali spicca sicuramente Titano Rab, numero 7 dello schieramento, allievo di Natale Cintura, che nonostante non sia ben collocato per quanto riguarda il numero, però è un soggetto che sicuramente vanta ottime qualità e quindi potrebbe essere ancora una volta il soggetto da battere. Tra le alternative potremmo citare la regolare Tratralias, numero 1 dello schieramento, Telespazio che è un cavallo che sta avvenendo avanti, un cavallo in crescita, oppure il veloce Tivadivar Very Nice, il numero 3 dello schieramento. Ancora una volta Francesco Sirchia ci ha fatto la sua disamina. A chiudere il convegno ci saranno i cavalli di tre anni nel premio Siviglia, una condizionata sui 1600 metri che ha in Titano Rab il cavallo da battere. L'allievo di Cintura, nonostante il numero a largo dello schieramento, dovrebbe essere il soggetto più indicato a rivestire il ruolo di favorito, in quanto reduce da ottime prestazioni palermitane. Le alternative possono essere il numero 3 di Tivadav Very Nice, soggetto molto veloce che davanti potrebbe giostrare al meglio. Telespazio numero 2, soggetto in crescita, il numero 1 di Trataleas, cavallina regolare e affidabile, ed ancora il numero 6 Tango Rivarco P, soggetto molto dotato, ma piuttosto alterno e che non sempre riesce a fare percorso liscio. Volendo nominare una sorpresa, direi il numero 10 Texas G, cavallina simpatica, duttile e dotata di un buon parziale finale. Bene, con questo è tutto, non mi resta altro che darvi l'appuntamento, quindi all'ipodromo del Mediterraneo, sabato 25 luglio, con una serata ricca di trotto, ma anche di eventi legati a Miss Italia, legata appunto al campionato guidatori del Mediterraneo, apertura alle 20.40, vi aspettiamo in tanti, arrivederci.